Edizione 2022 del premio nazionale donna. La Ollus Antonio Padovani rinnova questo appuntamento nato quattro anni fa, che è divenuto nazionale quest'anno ed è stato presentato in Senato. Un premio dedicato alla figura di Antonio Padovani, che in vita ha combattuto tante battaglie a favore delle donne e dei più deboli del sociale. La serata finale a Casale Signorini, una serata emozionante. Ogni anno il premio si assegna delle personalità che si sono particolarmente distinte per le qualità professionali, per l'impegno sul campo e difesa dei deboli e delle vittime di violenza. Nasce per rimarcare la cultura del rispetto come prima arma di difesa. Questo premio nasce appunto quattro anni fa e nasce in ricordo appunto delle battaglie che faceva mio padre. La Ollus è nata proprio per questo motivo. Nasce per continuare a portare avanti gli insegnamenti che mio padre ha dato a me e alla mia famiglia. Lui aveva, dava molta importanza al ruolo della donna. Per lui la donna aveva una marcia in più, era quella che stava sempre due passi avanti e che voleva che nelle donne avessero il riconoscimento che meritavano. Quindi noi abbiamo continuato questa sua battaglia, la continuiamo ogni anno sempre di più. Quest'anno appunto il premio diventa un premio nazionale per essere ancora più incisivi in queste battaglie di rispetto della cultura del rispetto. Noi vogliamo portare la cultura del rispetto soprattutto delle donne nelle nuove generazioni, in famiglia e nel lavoro. Adesso siamo qui questa sera proprio per rimarcare questo nostro obiettivo perché il nostro sogno è quello che un giorno le scelte vengono fatte non sul sesso ma sul curriculum. Quindi le persone vengono premiate nei loro ambiti, sia quelli professionali che quelli sociali, per le loro capacità e per le loro competenze e non per il loro colore o per il loro sesso. Le premiate sono state Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola sparato dal padre della sua fidanzata. La giornalista di quarto grado Ilaria Mura, Anna Gaeta, moglie di Patrizio Falcone, ucciso in un quartiere di Napoli da un vicino di casa durante il lockdown, Alessia Natale, presidente dell'associazione Penelope Abruzzo e la giornalista Barbara Schiavulli, giornalista inviata di guerra appunto. Dall'inizio ho subito capito che c'era qualcosa che non mi tornava e quando poi ho capito veramente quel punto che non mi tornava, cioè che praticamente c'erano state due chiamate al 118, la prima era stata annullata, poi era stata riattivata, erano passati praticamente 110 minuti, 110 minuti dove Marco era rimasto colpito da un corpo d'arma da fuoco e nessuno aveva fatto niente, tant'è vero che quando c'è stata la prima Cassazione che praticamente sono uscite le motivazioni dove dicevano che la famiglia Cento aveva avuto una condotta non veritiera, reticente, non mi sembrava vero che avessero capito quello che veramente era successo a mio figlio e quindi c'è avuto momenti dove andavo giù di morale e momenti che poi cercavo di riprendere le forze, non nascondo che ho dovuto studiare le carte, sono dovuta diventare una donna diversa da quella che ero perché io ero una semplice donna, una casalinga e invece all'improvviso mi sono trovata a parlare con avvocati, a stare nelle aule del tribunale a capire il meccanismo di come funzionava una sentenza, cioè noi siamo stati, praticamente abbiamo vissuto cinque sentenze di Marco e ci sentivamo a volte proprio abbandonati dalla giustizia, da tutto il sistema che c'era, però non abbiamo mai mollato, forse perché l'amore di un figlio va contro natura, no? Cioè voglio dire, è natura, cioè nel senso la morte di un figlio è contro natura, però ti dà la forza per poter andare avanti e lottare, no? Perché poi tra le tante cose cioè loro avevano fatto una ricostruzione dei fatti dove a mio figlio l'avevano fatto perdere di dignità e Marco non poteva neanche difendersi perché loro erano cinque persone diciamo a dire una loro verità e Marco non c'era più. Quindi alla fine io inizialmente chiedevo verità e giustizia per Marco. Signora Anna, questo premio è molto importante perché le permette insomma di raccontare la sora di sto marito, quindi di ricordarlo e anche di insistere poi sui temi della giustizia, sulla tenacia però pure di una donna insomma che va avanti nonostante tutto. Sì, io ringrazio tutti quanti che mi hanno invitato per far conoscere la storia di mio marito. Mio marito si chiamava Falcone Patrizio, si chiama Falcone Patrizio, è stato ucciso nel lockdown nel 2020, 23 maggio nel 2020 per una piscina sul terrazzo. La mattina, un sabato mattina, mio marito è stato chiamato da un vicino di casa che abitava l'altro palazzo e l'ha invitato a scendere giù. Nel frattempo che mio marito è sceso non ci sono state nessune liti e nulla. Questa persona, Mauro Severino, come ha visto che mio marito è sceso, l'ha invitato vicino e gli ha dato una sola pugnalata al cuore davanti agli occhi dei miei ragazzi. una lama di 12 centimetri che gli ha perforato il cuore e il polmone. Mio marito è finito dopo poco, nemmeno il tempo della corsa in ospedale. La sua storia insomma insegna che però la forza di una mamma, la tenacia permette comunque di andare avanti nel ricordo ma anche diciamo nelle pene che devono essere severe e anche nel fatto che in questa società adesso basta veramente nulla per portare a questa situazione. Non è facile. Lo Stato quando ci può essere ma ci sono selezioni di vittime. Io mi ritengo una vittima di serie C, a volte dico serie Z perché io sono vittima della criminalità comune e quindi non abbiamo nessun sostegno. Tranne la Polis che è una fondazione della regione di Campania che dopo quasi otto mesi mi hanno dato una borsa di studio per i miei ragazzi per farli continuare a studiare e per un supporto psicologico perché io l'ho pagato all'inizio e poi nient'altro io pago un avvocato, pago tutto e vabbè non vi dico le spese che ci sono e le difficoltà per crescere due ragazzi. Nel periodo del lockdown io non lavoravo neanche e quindi la pensione di mio marito è minimissima perché non ha neanche dieci anni di contributi e quindi io sono stata lasciata là così. Se io non combattevo e non insegnavo ancora i valori quelli laveri che ha insegnato mio marito perché era un marittimo e quindi ho continuato in questo a dire che loro sono la mala società e noi siamo la buona. Dal 74 ad oggi le persone scomparse e mai ritrovate in Abruzzo sono circa 500. Questi sono i numeri che il commissario straordinario del governo ci comunica semestralmente. Nella provincia dell'Aquila c'è una grandissima incidenza di persone scomparse e lo scorso anno sono state su 243 denunce di scomparsa in tutto Abruzzo l'Aquila è stata interessata per un numero di 115 persone. Quindi comunque parliamo di un numero che corrisponde a quasi la metà delle denunce che ci sono state. Ecco la maggior parte dei casi si risolve purtroppo negativamente o no? Com'è la situazione in questo senso? Allora dipende molto da quando viene fatta le tempistiche, quindi da quando viene fatta la denuncia e da quando partono le ricerche. Purtroppo la metà dei casi si risolve in maniera tragica. E poi devo dire che io mi accosto alla persona che devo intervistare sempre senza alcun pregiudizio. Guarda, molte volte evito anche di leggere gli articoli dei colleghi, mi limito all'Ansa, ecco, alla notizia a Tukur, e dopodiché vado sul posto e mi faccio un'idea. Questo più per non farmi condizionare. Perché sai, il problema della nostra professione, del nostro lavoro, anzi è il nostro mestiere, perché il nostro mestiere si vive sul campo, lo annusi, senti la notizia, la rincorri, è che spesso ci si fa un'idea a priori. Quindi dici, ah, benissimo, tutti dicono più, anche io dico più, sono più tranquilla, mi spalmo nella tesi della procura, non corro rischi, è la verità ufficiale. Ecco, spesso la verità ufficiale non è la verità vera. Quindi parlare con i protagonisti, che attenzione, non sempre dicono la verità, quindi sta a te molte volte capire, anche da alcune sfumature, dove vogliono arrivare, per dare un valore aggiunto, per raccontare una storia che si avvicini il più possibile alla verità, alla realtà di quello che è accaduto. Quindi, secondo me, l'onestà intellettuale del cronista è proprio questa, dare voce a tutti, farlo senza pregiudizio e raccontare i fatti. Secondo me la cosa più importante è raccontare queste storie, far sapere che queste persone non sono dimenticate, io parlo del mondo, quindi di posti che spesso non finiscono sui giornali. Penso alle donne in Afghanistan che oggi per legge non possono più andare a scuola, non possono lavorare, devono vestirsi in un certo modo, quando sono reclusa a casa. Il valore è quello di poter andare sul posto, poterlo raccontare, trasmetterlo qui, dove la situazione è migliore sicuramente, ma anche perché la lezione di questi posti, soprattutto in guerra, è che i diritti che sono stati conquistati possono anche essere ripersi facilmente. Ospite d'onore, l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente nazionale di Penelope, che si è occupato di casi di cronaca molto importanti ultimamente. La situazione per quanto riguarda gli scomparsi è molto migliorata, anche se ci sono ancora tanti passi da fare. C'è più attenzione, c'è più sensibilità, c'è più formazione, ma comunque ci deve essere maggiore attenzione sicuramente, perché nonostante sembriamo tutti sotto la sorveglianza di un grande occhio elettronico che controlla i nostri movimenti, banco, mat, telepass, telecamere, ovunque, la gente purtroppo scompare. Un esercito che è arrivato a 70.000 persone che sono scomparse dal 1974 ad oggi e noi cerchiamo di dare il nostro supporto. Un tema importante che vorrei affrontare con lei è quello del mobbing sui luoghi di lavoro per le donne. C'è una giusta tutela secondo lei? C'è tantissimo da fare ancora? Il mobbing è un argomento veramente che fa tremare le vene ai polsi. C'è ancora tanto da fare. Ci vuole molta più attenzione da parte del legislatore, perché è un fenomeno molto più diffuso, dilagante, sottile. Spesso e volentieri sui luoghi di lavoro troviamo la forma più subudola della violenza, quella psicologica. Troviamo gli abusi, quelli che si fanno in modo lento, però continuo, reiterato. Abbiamo un caso che stiamo seguendo come Penelo, proprio quella della dottoressa Sara Pedri, che con ogni probabilità e purtroppo ha compiuto un gesto estremo proprio per liberarsi da questa guinzaglio che l'aveva stretta al cuore, nell'anima e che deriva con ogni probabilità dai luoghi di lavoro. Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice. Accompagnato questo premio che è cresciuto nel tempo, che è diventato oggi nazionale sin dagli esordi di quattro anni fa, moderando, avendo una partecipazione attiva. La novità è che la sua opera inedita, Zittita, verrà presentata in anteprima con un melologo, che poi però andrà a Como. Sì, Zittita è un'opera in realtà mai pubblicata, inedita, quindi ha partecipato soltanto a concorsi nazionali e internazionali, ne ha vinto molti premi, ed è per questo che Rossella Spinosa, che è una grande compositrice italiana, insieme a Sonia Grandis, attrice e registra Rai, mi hanno contattata e hanno deciso di trasformare quest'opera, questo racconto, in un melologo, che è un'opera teatrale musicata, e di presentarlo in anteprima, quindi in realtà è un regalo che loro fanno alla città e agli ospiti di questa sera, proprio all'Aquila, in occasione del Premio Donna 2022. Il melologo debutterà in realtà a Como in autunno, proprio durante il Festival del Melologo, e poi girerà i teatri di tutta Italia.